Tutti gli uomini, finché sono in vita, hanno in sé l'anima, morta o viva che sia per peccato o per giustizia. Ma soltanto i grandi amanti di Dio raggiungono la contemplazione vera. Questo sta a dimostrare che l'anima, conservante l'esistenza finché è unita al corpo, e questa particolarità è in tutti gli uomini uguale, ha in sé stessa una parte più eletta, l'anima dell'anima o spirito dello spirito, che nei giusti sono fortissimi, mentre in coloro che disamano Dio e la sua legge, anche solo con la loro tiepidezza e i peccati veniali, si fanno deboli. Privando la creatura della capacità di contemplare e conoscere, per quanto lo può fare un'umana creatura, a seconda del grado di perfezione raggiunta, Dio e i suoi eterni veri. Più la creatura ama e serve Dio con tutte le sue forze e possibilità, e più la parte più eletta del suo spirito aumenta la capacità di conoscere, di contemplare, di penetrare le eterne verità. Grazie. Grazie.